La situazione epidemiologica in Puglia migliora molto lentamente e nemmeno su tutto il territorio. Per questo è molto probabile che la regione resti in zona rossa anche dopo le feste di Pasqua, così come ha annunciato l'assessore Pierluigi Lopalco. La decisione arriverà venerdì, quando si riunirà nuovamente la cabina di regia nazionale, ma i dati non sono positivi. La pressione sugli ospedali è ancora molto forte. Ieri i pazienti erano 2.100. La situazione potrebbe migliorare verso la fine di aprile, ha detto Lopalco. Davanti quindi c'è ancora un mese di sofferenza per gli ospedali e le attività commerciali che saranno costrette alle chiusure con la permanenza in zona rossa. Sono 23.904 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati ieri. A fronte dei 16.017 di martedì, mentre torna a rialzarsi il tasso di positività. Nelle ultime 24 ore è infatti il risultato positivo il 6,8% dei tamponi effettuati, contro il 5.3 del giorno precedente. Ieri inoltre, certificati 467 decessi, martedì erano stati 529. In Puglia, riscontrate nelle ultime 24 ore 1.962 nuove positività, il 14,16% dei test svolti. Di questi, 328 nel Tarantino, mentre ieri sono state 43 le vittime in regione. Sono 360 i positivi al Covid attualmente ricoverati nei vari presidi dell'area ionica, a cui vanno aggiunti i 38 pazienti post-Covid in cura presso il nosocomio di Mottola. Nel frattempo, ieri si sono registrati 12 decessi in provincia. In Puglia è superata la soglia di 600.000 dosi di vaccino somministrate e prosegue l'imponente campagna per arginare la pandemia da coronavirus. Ieri passi in avanti per le vaccinazioni a pazienti dializzati e demodializzati in cura presso i presidi Tarantini. Oggi invece è prevista la vaccinazione di 60 detenuti della casa circondariale ionica. A partire da domani, 2 aprile, saranno vaccinate anche le persone con diagnosi AIDS e grave immunodeficienza HIV. Da ieri aperte le adesioni per le persone nate tra il 1 gennaio del 1944 e il 31 dicembre del 1945, 77 e 76 anni. Non occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla regione sulla base della data di nascita e del comune di residenza. Nel frattempo, iniziata la distribuzione dei vaccini in Moderna ai medici di famiglia per le somministrazioni per i soggetti disabili e fragili a domicilio o direttamente negli studi. Sono trascorsi 40 anni dalla legge 121 del 1981 che determinò la trasformazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella polizia di Stato. Nasceva allora una polizia moderna, smilitarizzata, caratterizzata da una forte identità civile. La 121 ha infatti affidato all'istituzione una missione non solamente volta a presidio della sicurezza del Paese ma come ha spiegato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proiettata verso la cura dell'ordine democratico e che concorre a rendere vera la libertà di esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione. La legge 121 dell'81 è una pietra miliare relativamente all'amministrazione della pubblica sicurezza. ha costituito un cambiamento assolutamente fondamentale e direi radicale nella concezione della gestione della sicurezza in Italia. Un cambiamento di sistema che non riguarda soltanto la Polizia di Stato come organizzazione. Giovedì santo di campionato per il Taranto che a distanza di quattro giorni torna nuovamente in campo ospitando sul rettangolo verde dello Iacovone il gravina di Mister Gamburro. La terza che non avrà a disposizione i lungodegenti a disposito Corrado Santarpia, Gonzales e Guaita pare orientato a confermare l'impianto tattico incentrato sul 4-2-3-1 piazzando a guardia dei legni Dorian Cekoschi. In difesa da destra a sinistra boccia Guastamacchia, il rientrante Gianmarco Rizzo e Ferrara sulla linea di centro campo. Certo di una maglia è Max Marsili con Diabì favorito su Matute. Tissone alto sulla tre quarti affiancato da Falcone e Nicolas Rizzo con Tato Diaz unica punta. Dirigerà la contesa il signor Alessandro Cutrufo della sezione AIA di Catania che ha già incrociato il Taranto nella sfortunata direzione del settembre 2019 quando convalidò un gol palesemente viziato da un tocco di mano a Bonanno. Allora in forza al Sorrento il fischietto catanese sarà coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli di Lecco e Bruno Galigani di Sondrio. Fischio d'inizio alle ore 15.